Relazione finale coordinatore terza R indirizzo accoglienza turistica Il comportamento della classe è stato, sotto il profilo disciplinare, sempre corretto Il raggiungimento degli obiettivi didattici è da considerarsi adeguato per la totalità degli allievi La frequenza risulta nel complesso regolare La maggior parte dei docenti ha svolto al 100% i piani di lavoro I piani di lavoro di matematica, inglese e alimentazione sono stati svolti all'85% Gli alunni hanno frequentato il percorso di alternanza scuola-lavoro Hanno partecipato ad eventi e manifestazioni Alcuni di loro hanno partecipato al POR, Scuola Viva, Modulo Peer-to-Peer, Alberghiero, Laboratorio di Hospitality Hanno svolto l'UDA, si sono cimentati nella caccia al tesoro con i codici QR Si è fatto ricorso a Google Docs, per scrivere documenti in modalità collaborativa Quanto alla valutazione, si è tenuto conto della situazione di partenza, dell'attenzione, della partecipazione, del metodo di studio e di lavoro, dell'impegno, delle capacità e degli obiettivi conseguiti Inoltre ho sollecitato e mantenuto i contatti con le famiglie degli allievi Informandole dell'andamento didattico e disciplinare degli alunni Nonché convocandole con telefonate a casa Per informare le stesse sul rendimento e sul comportamento degli alunni Al di là delle riunioni periodiche di ricevimento Grazie dell'attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti